Scarpette rosse di ceramica, questa viene dal comune di Santo Stefano di Camastra. E' stata selezionata ed esposta nella puntata di mercoledì 25 novembre della nota trasmissione Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa e in onda sul Rai 1, la scarpetta rossa in ceramica realizzata dagli allevi del liceo artistico regionale d'arte Ciro Michele Esposito di Santo Stefano di Camastra, guidato dal dirigente Calogero Antoci. L'opera è stata prodotta nell'ambito del progetto Scarpette rosse in ceramica per dire no alla violenza sulle donne, lanciato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica e giunto alla sua quarta edizione. Santo Stefano di Camastra, con il liceo artistico regionale Esposito, insieme ad altre 46 città della ceramica, si è mobilitato contro la violenza sulle donne in un progetto che vede la realizzazione da parte dei ceramisti di scarpe rosse d'artigianato artistico, esposte poi all'aperto in diversi contesti urbani nella giornata del 25 novembre. Le limitazioni alle manifestazioni pubbliche disposte a causa del Covid-19 non hanno fermato la produzione artistica dei ceramisti di tutta Italia, che ancora con più forza intendono sottolineare il grido silenzioso del gesto creativo della poesia, che in molti casi si sposta anche sul web attraverso l'unica condivisione partecipata a Messa. La scultura stefanese, unica ed esclusiva, raffigura il volto della donna sotto forma di scarpetta impreziosita, nella parte del tallone da una farfalla, emblema di libertà e rinascita. È stata decorata con vernice lucida metallizzata rossa, quale colore simbolo dell'amore, della passione che sfocia in violenza, nel perverso sentimento di possesso morboso, che diventa trappola, spesso mortale, in cui tante, ancora troppe donne, cadono. Il rosso rappresenta il colore del sangue versato dalle donne vittime di violenza e femminicidio, ma è anche espressione della femminilità e della forza delle donne. La scelta di adottare la scarpetta rossa come simbolo della lotta alla violenza sulle donne è stata lanciata dall'artista messicana Elina Chauvet, la cui installazione Zapatos Royas è apparsa per la prima volta nel 2012 davanti al consolato messicano di El Paso, in Texas, per ricordare le centinaia di donne uccise nella città messicana di Juarez.